Questo è Ugo. Ugo è un camaleonte e si adatta sempre. Ugo ha due grandi passioni. Oltre a cambiare sempre, adora guardare la TV, ma sempre gratis. E vuole vedere tutto con la migliore qualità d'immagine quando vuole lui. Per fortuna, c'è la TV. Cerca il bollino sui televisori certificati per vedere sempre meglio di più e on demand. Scopri se puoi accedere al bonus TV del Ministero dello Sviluppo Economico. La TV cambia. Cambia la TV. Grazie.